Musica Benvenuti a questa nuova edizione di TR24 Sport. L'attesa finale dei 50 metri rana ha visto ancora una volta Fabio Scozzoli come grande protagonista, l'atleta forlivese ha chiuso in sesta posizione il Mondiale di Buccarest, ritoccando per la seconda volta in due giorni il record italiano su questa specialità. Vediamo in servizio. Nella giornata in cui una nazione intera si è fermata per l'ennesima impresa compiuta da Federica Pellegrini, la conquista di uno strepitoso oro nei 200 metri stile libero, anche la Romagna può festeggiare un altro grande traguardo raggiunto nella vasca di Budapest. Fabio Scozzoli ha concluso il proprio percorso nei 50 metri rana con un sesto posto nella finale ridata, che vale davvero molto perché davanti all'atleta di San Martino in Villafranca si sono piazzati degli autentici mostri sacri di questa competizione. A cominciare dal trionfatore, il britannico Adam Pitti, ancora una volta sceso sotto il muro dei 26 secondi, passando per il brasiliano Gomesch ed il sudafricano Vanderburg, rispettivamente argento e bronzo. Inavvicinabili anche l'altro brasiliano Lima e lo statunitense Cordes, per uno Scozzoli che comunque ha dato ancora una volta il massimo di sé. Prova ne è il secondo record italiano conquistato, o per meglio dire ritoccato sempre da Fabio fino al tempo di 26,91. Mi sono migliorato di 40 centesimi nell'ultimo anno ed averlo fatto dopo i problemi della stagione passata mi dà ancora più carica. Queste le parole dell'Azzurro a fine gara. Un concetto che trasmette ancora più ottimismo in vista delle sfide future che attenderanno Fabio al ritorno dall'Ungheria. Ci occupiamo adesso di calcio. I Galletti domani lasceranno Forlì per trasferirsi presso il ritiro di acqua partita che durerà fino al 5 di agosto. Intanto hanno incontrato i tifosi anche i neoacquisti Longato, Rapai e Falco. Vediamo. Le presentazioni in casa Forlì continuano a tenere banco in attesa degli arrivi di Cavallari e Bianchini dal Cesena. Il DS Oberda Melini ha portato in bianco rosso Fabio Dallara, Sonrin, Radoi e Davide Maioli. Ultimi ad abbracciare i tifosi sono stati Longato, Falco e Rapai. Il mercato per ora però si ferma qui in attesa di conoscere se ci saranno reali possibilità di ripescaggio in Serie C. È la prima volta che faccio un girone diverso dal girone C e cosa mi ha spinto a venire qua? Forlì è una piazza importante che secondo me merita altri palcoscenici e quindi appena mi ha chiamato direttore non ci ho pensato due volte e sono venuto qua. tre o quattro anni penso più o meno con l'anno aggregato con la prima squadra con il primo anno di Gadda cinque anni, quattro e cinque anni penso che sono qui a Forlì quindi ormai l'ambiente lo conosco alla grande. È fondamentale perché se cambi, noi io sono arrivato a Recanati a giugno quando andai a parlare con la società per la riconferma e c'era l'allenatore che abbiamo sfiorato i playoff a luglio ci siamo ritrovati un altro allenatore, a dicembre ce ne siamo trovati un altro a dicembre mandano via otto giocatori che l'anno prima stavano in squadra con noi e abbiamo sfiorato i playoff ce ne mettono altri otto dove comunque bene o male il gruppo non si è riuscito a compattare quindi è successo questa retrocessione. Poco più di un mese ed i nuovi campionati di eccellenza e promozione regionali avranno inizio. È domenica 3 settembre la data designata per l'inizio dei due principali campionati del Crer mentre due settimane più tardi toccherà invece alla prima categoria Rispetto alla passata stagione diminuirà in maniera drastica il numero dei turni infrasettimanali ridotto alla singola data del primo novembre mentre la stagione regolare si concluderà il 6 maggio prorogo delle fasi playoff e playout Tra le eventuali novità previste per la prossima stagione anche la possibilità di ricorrere al numero personalizzato sulle maglie per tutta la durata del campionato al momento non si tratta di un obbligo e la stessa ipotesi di ampliare il numero di sostituzioni in campo da 3 a 5 un'altra innovazione che potrebbe essere recepita nelle prossime settimane Intanto le nuove maglie della Cesena hanno nettamente soddisfatto la piazza bianconera Ce ne parla il collezionista Andrea Bertozzi che insieme a Matteo Fanesi e ad Andrea Zavalloni possiede centinaia di casacche storiche del cavalluccio Insieme ai ragazzi del Museo Bianconero abbiamo commentato in maniera molto positiva il lavoro che ha fatto l'otto finalmente arrivano delle belle maglie finalmente delle maglie che guardano alla tradizione basta poco per accontentare i tifosi quindi abbiamo visto che basta veramente poco ci è piaciuto particolarmente il fatto che torna un colletto alla coreana che non c'è mai stato però ritorna il bottoncino che è scomparso nell'anno 97-98 e che è stato perso negli anni del 2000-2010 e abbiamo apprezzato anche il fatto che finalmente la lotto ha assecondato i colori della maglia di casa facendo scomparire il rosso che era particolare dell'azienda e il verde delle scorse stagioni che a noi proprio non c'è per niente piaciuto e poi possiamo dire qualcos'altro per quanto riguarda la terza maglia come colore ha una tonalità particolare e si potevano forse impegnare un po' di più per la maglia del portiere che insomma è molto simile agli anni scorsi cambia pochissimo rispetto al modello della scorsa stagione con lo scudetto e i risvolti fluorescenti Parliamo adesso di tennis si è conclusa nel peggiore dei modi la partecipazione di Sarerrani alla WTA International di Bastad sulla terra rossa svedese la tennista romagnola è uscita sconfitta in appena 55 minuti nel confronto con la francese Caroline Garcia valido per il secondo turno di questa manifestazione col punteggio inequivocabile di 6-1-6-0 e pensare che Sarita era anche partita forte nel primo game conquistandosi una palla break poi annullata dalla transalpina che di lì in avanti non si sarebbe più fermata il primo set diventava così un monologo della Garcia interrotto solo dal punto ottenuto da Errani nella sesto game per il 6-1 finale peggio ancora andava nel secondo parziale con Garcia implacabile nel lasciare a secola azzurra e meritarsi così l'accesso ai quarti di finale ma adesso possiamo dare un'occhiata anche alle notizie che troviamo all'interno dei quotidiani presenti da questa mattina in edicola cominciamo allora con il nostro giro grazie al Corriere di Romagna si parla di ciclismo tutti sui pedali nel nome del pirata sabato 16 settembre torna dunque il classico memorial Marco Pantani gli organizzatori ed il comune di Cesenatico assicurano la corsa anche nel 2018 come detto questo per quanto riguarda il Corriere ma sul resto del Carlino si dà ampio risalto all'impresa compiuta dai nuotatori italiani un'acqua azzurra dunque con una rimonta strepitosa la Pellegrini rivince il Mondiale battendo il fenomeno le decchi poi annuncia erano i miei ultimi 200 e Detti trionfa negli 800 regalando all'Italia una giornata storica ma ieri si è effettuato anche il sorteggio del nuovo calendario del campionato di Serie A sentiamo allora le impressioni grazie all'opinione di Luciano Pocce il campionato di Serie A dunque ha conosciuto il suo primo momento che è quello della pubblicazione dei calendari del campionato un campionato che andrà avanti anche a Natale un campionato che si chiuderà il 20 di maggio ma sappiamo benissimo perché perché ci sono le finali dei mondiali in Russia il prossimo anno ma è un campionato questo che porterà quattro squadre italiane alla prossima Champions 2018-2019 è un campionato che si presenta quanto mai in equilibrio il Milan si è rinforzato tantissimo ma pesa l'incertezza di sistemare dieci o quasi nuovi arrivi la Juventus è sempre quella ha perso Bonucci ma credo che comunque non si possa perdere di vista la squadra bianconera in vista scudetto il Napoli il Napoli forse è la maggior accreditata alla vigilia per la conquista del tricolore e poi c'è la Roma e poi c'è l'Inter insomma ci apprestiamo a vivere un campionato davvero straordinario almeno così penso sarà incertissimo e forse questa incertezza finirà magari per minare anche le sicurezze della nazionale ma di questo parleremo nel prossimo anno ed è davvero tutto per quanto riguarda questa edizione di TR24 Sport potete comunque avere maggiori informazioni sportive sul portale tr24.it grazie allora per essere stati qui con noi arrivederci ciao